Bentornati ad un nuovo episodio di Gong. Abbiamo saltato la puntata di ieri perché lo rivendichiamo per scelta perché gli argomenti che venivano dibattuti un po' in giro non ci convincevano mentre oggi torniamo un po' a focalizzarci sull'attualità videoludica ma non solo perché in realtà la prima notizia che vogliamo commentare più che una notizia è una lunga intervista che Videogame Chronicles ha ottenuto con Platinum Games che parla appunto del futuro del team e anche del presente in realtà insomma della filosofia produttiva di come il team sta affrontando un po' le cose dopo l'arrivo di Takao Yamane un ex dirigente di Nintendo che aveva raggiunto la compagnia quest'estate non mi ricordo esattamente quando. Sì a luglio dopo 20 anni in Nintendo occupandosi di cose varie ed eventuali merchandising mercato cinese eccetera eccetera si è unito a Platinum Games tra l'altro spiegano l'intervista che in realtà è stato un trasferimento molto morbido nel senso che lui è rimasto in ottime relazioni con la grande N e che anche questo inserimento di una figura importante a livelli dirigenziali alti per il team di Osaka è comunque un modo per cementare la relazione con Nintendo che è una relazione proficua tra poco arriva anche a Bayonetta 3 che quindi appunto è una relazione che dura da un po' e che va avanti in un certo modo. Sì e diciamo fra i temi toccati da queste interviste insomma ce ne sono tantissimi si spazia davvero dal plausibile ritorno di Scalebound ma ci arriviamo ma si parte in generale con un'idea di quello che la compagnia vuole fare nel prossimo futuro e appunto Platinum Games rivendica diciamo la volontà di cambiare un pochino l'aspetto cioè il rapporto con le altre parti dell'industria rivendica anzi la volontà di lavorare un po' meno su prodotti insomma commissionati e invece un po' di più sulle proprie IP per appunto poi avere un po' più le redini diciamo delle produzioni e magari anche evitare lo voglio mettere fin da subito sul piatto quello che è successo un pochino con Babylon's Fall allora sì in realtà di Babylon's Fall poi parliamo perché viene citato esplicitamente come un esempio di una cosa che è andata male ma ci tengono a dirlo in un'intervista a tre in realtà cioè sia Inaba che Camilla che appunto è il nuovo arrivato parlano in momenti diversi e Inaba che è lo studio director dice comunque cioè posso dire solo certe cose perché ovviamente abbiamo anche degli impegni contrattuali con Square Enix responsabilità diciamo condivisa ma lui si prende più la parte di sviluppo e dice tante scelte sono dipese dal publisher e a loro però ha pesato il fatto di non poter prendere le scelte in prima persona. Questo dicono anche cioè la chiusura dei server del gioco insomma l'abbiamo commentato anche qua su Gong a così breve distanza dalla pubblicazione ha generato anche rabbia in alcuni dei fan di Platinum ma non è questa la nostra idea di l'idea di compagnia che vogliamo insomma comunicare poi al pubblico all'esterno non vogliamo passare come quelli che lanciano i giochi e poi li abbandonano e quindi forse anche da quello deriva l'idea di tornare a lavorare un pochino di più sulle proprie IP e sui propri contenuti non credi? Sì loro in generale secondo me stanno facendo da un lato un percorso di crescita che ci sta cioè abbiamo sentito e raccontato di cosa vuol fare nei prossimi vent'anni di Project Red che è chiaramente uno studio diverso e con una proprio velleità molto differente però diciamo che questa secondo me il trade union tra i due è comunque questa ideale visione di si sviluppare nel caso di Platinum magari qualcosa anche su licenza per gli altri ma soprattutto di crearsi le proprie IP per cullarsele un po' e gestirsele secondo me un domani che non è però un domani nel senso del 2050 magari facendo lo stesso salto di rendere un po' i loro giochi dei franchise perché l'abbiamo visto che Hollywood è interessata a questo tipo di salto ci sono possibilità tramite Netflix eccetera eccetera cioè l'anime di Nier può funzionare alla grande e cose del genere secondo me sono tutte opportunità che nel momento in cui detieni poi il controllo dell'IP puoi mettere effettivamente in campo no? al tempo stesso però la cosa che voglio dire è che Platinum quando ha cercato soprattutto con Scalebound di ingrandire il proprio range d'azione è sia un po' scontrata con una realtà che forse è leggermente diversa da quella che è la loro gerarchia e la loro struttura cioè sicuramente l'inserimento di una figura importante come quella del manager Nintendo è volta a magari appunto gestirsi meglio però è anche vero che se forse questo slancio ce l'hanno da un po' di anni si scontrano con una realtà in cui poi fanno un po' più fatica del previsto sì sono d'accordo con te che debba arrivare insomma non solo un cambio di prospettiva di filosofia o di ambizione ma anche un cambio proprio strutturale all'interno dell'azienda ma fra anche di maggiore concretezza perché cioè Baionetta 3 sviluppo da 8000 anni Project GG preproduzione annunciato tantissimo prima esatto cioè secondo me anche un cambio proprio di rotta mentale in cui tu il gioco lo annunci lo lavori nel tempo giusto e ti dedichi magari a meno progetti ma più a fuoco ti serve assolutamente speriamo che possa succedere devo dire che per ora insomma loro in questa intervista secondo me delineano in effetti la comprensione cioè di aver compreso alcune delle loro problematiche fra cui quella distributiva loro citano diciamo l'esempio di Wonderful One on One della rimasterizzazione e di Sol Cresta come un diciamo giro di prova per quanto riguarda la distribuzione secondo me additando il fatto di sapere che con quelle due cose non è andata proprio bene nemmeno su quel fronte lì e me lo auguro perché c'è soprattutto con il Kickstarter di The Wonderful One on one che è un gioco che io su Wii U adoro uno dei miei action preferiti in assoluto ma lì non hanno fatto una bella roba no no non hanno fatto una bella roba sbagliata secondo me anche concettualmente infatti secondo me insomma comunque sia il fatto che dicano vogliamo migliorare anche nella distribuzione sottolinea l'idea che loro una progressione aziendale la vogliono avere certo ma se no non avrebbero assunto appunto insomma Yamane e comunque passando ad altro nell'intervista si parla proprio anche di Scalebound si parla di Scalebound ne abbiamo parlato anche noi fra l'altro non insieme no esatto momento nostalgia mi sta venendo volevo proprio dirlo momento nostalgia perché avevo registrato la puntata di Gong mentre stavo camminando per le vie di Asaksa e a Tokyo quindi veramente così c'è un ritorno mentale a Tokyo però sì cioè come avevo già detto in quell'occasione secondo me non è necessariamente detto che stia succedendo cioè non penso che Scalebound sia tornato in produzione ma secondo me ci sono proprio dei sai un po' quel corteggiamento quegli ammiccamenti da una parte e dall'altra che poi portano a quella cosa perché anche in questa intervista Camille addirittura si mette a parlare in inglese a dire Phil Spencer se è tutto inteso facciamolo poi dice non mi ha ancora mandato messaggi su Twitter però cioè sono tutte secondo me delle smancerie che arrivano da una parte e dall'altra che poi porteranno in quella direzione lì ma arrivo anche a dire sarà una storia da raccontare ma io non sono così convinto lo raccontavo anche l'altra volta del fatto che poi Scalebound possa diventare un successo però sono quelle cose che sono diventate ormai un po' un mito per cui forse anche a livello di immagine a Microsoft fa bene tirarlo fuori allora sì sono d'accordo con te che se Microsoft lo riannunciasse crollerebbe internet e il mondo ma io sono abbastanza convinto che insomma Camille in questa intervista stia facendo Camille cioè stia un po' stuzzicando più che altro il pubblico invece che dare insomma un'indicazione concreta poi il segnale non è che lo mandi così cioè gli telefoni ne parli addirittura c'è pure Yamane che appunto quando abbiamo fatto la domanda dice fai rispondere a me perché altrimenti Camille fa un po' i tossetti della situazione è vero è vero spoiler però in realtà mi sembra diciamo una battuta bonaria fra l'altro forse in linea con un altro dettaglio ecco volevo proprio parlarne voglio citare ovvero con il modo in cui Platinum stessa si identifica agli occhi dice anche degli occidentali ovvero come i bad boys dell'industria nipponica che fanno un po' quello che vogliono si dice proprio gente che ha questa attitudine un po' da ragazzacci che però come posso dire alla fine quando devono promettere poi mantengono ma che nel farlo seguono un po' le loro vie che non so da un lato mi fa un po' ridere perché c'è questo l'attitudine mi ricorda c'è una foto di Camille che circola su internet vera di lui ragazzino vestito da punk inglese con la madre invece tutta vestita bene che faceva star a ridere perché si vedeva il suo spirito proprio ribelle di ragazzo che sembra un po' essergli rimasto e si viene anche nelle sue attitudini su twitter eccetera però al di là di quello è forse un po' naif questa visione che hanno di loro stessi che pensano che gli altri credono questa cosa è bravo è quello più che l'essere ribelle è l'ostentazione voluta ed esibita di questo desiderio di essere ribelli di essere visti come ribelli esatto che poi tra l'altro secondo me è vero ormai solo in parte perché forse quella fase lì l'avrei ascritta al primo baionetta forse tra il primo e il secondo c'è quel momento ma oggi secondo me Platinum Games è diventato tanto altro e non necessariamente nemmeno così legato per esempio a quell'attitudine lì che per me è proprio di Camille non di tutto lo studio sono abbastanza d'accordo prima di passare ad altro un accenno breve non tanto a Babylon's Fall che magari abbiamo già discusso all'inizio quanto al fatto che successivamente alla domanda su Babylon's Fall Platinum Games abbia appunto rivendicato la volontà esplicita comunque di continuare a lavorare nell'ambito dei live game dei game as a service cioè dicendo l'esperienza di Babylon's Fall non è stata positiva anche perché appunto le decisioni globali le ha prese il publisher e non le abbiamo prese noi ma questo non ci fa desistere dall'idea di infilarci di mettere un piedino nell'ambito dei game as a service e secondo me è una cosa estremamente pericolosa si sono fatti male con Babylon's Fall anzi con Babylon's Fall si è fatto male a Square Enix sì ci sono comunque fatti un po' male anche loro perché a livello di percezione esatto non ne sono usciti benissimo però secondo me perseverare potrebbe essere veramente diabolico io sono guarda non d'accordo con te di più non capisco lo dico proprio genuinamente questa ossessione dell'industria per i live service che è vero che quando lo imbrocchi è proprio la gallina dalle uova d'oro ma è molto più vero che mediamente lo sbagli e lo sbagli facendoti male ecco non lo so vedremo la seconda parte di questa puntata vogliamo invece dedicarla esplicitamente alla scrivania alla libreria alla libreria il mobilio di casa Spencer esatto il mobilio di casa Spencer che è tornato protagonista della chiacchiera videoludica perché in una foto che Phil Spencer appunto di Microsoft, di Xbox ha pubblicato sul suo profilo Twitter in realtà per mettere in mostra una statuetta del Vault Boy sì celebrativa di Bethesda diciamo in generale ecco in questa foto si vede proprio nella mensola più alta di questa libreria un rettangolo bianco che in molti hanno identificato come la console cloud based di Microsoft allora in realtà al di là dei detective di internet è un riferimento diretto a una cosa che era già successa in passato ovvero quando Phil Spencer nascose in piena vista stile Midsommar un modello di Xbox Series S ancora non annunciata lì su questa stessa libreria da lì in poi è diventata una specie di tormentone con cui lui in realtà gioca anche molto facendo il gigione così come le magliette di ricordi che servivano anche così tutte le magliette che portava in conferenza giochi indie cose varie erano allusioni allusioni a un annuncio che sarebbe arrivato ci sta secondo me è anche un modo di fare comunicazione un po' scherzosa un teasing non troppo esasperato alla Kojima dell'annuncio 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 e è chiaro che secondo me in questo caso lui l'ha fatto apposta e arriva anche a commentare l'account ufficiale Xbox che gli dice Phil anzi boss ti avevamo detto di non lasciare i prototipi in bella vista come dire che quello probabilmente potesse essere come hanno detto alcuni in realtà un prototipo di serie S più che di questa nuova console di cui si vocifera io non so se sia effettivamente un annuncio anche perché è una cosa di cui si chiacchiera ma che secondo me pur alla luce di quello che è appena successo a Stadia non so quanto senso abbia sul mercato con una serie S che già esiste con sarebbe un'ulteriore frammentazione però diciamo che non mi stupirei se effettivamente comunque la volessero lanciare ed è chiaro che comunque quel tweet quella foto quell'oggetto posizionato lì non è mai stato messo per caso come minimo serviva per fare un po' di chiacchiera allora forse per smuovere un pochino diciamo la chiacchiera videoludica ci sta io ritengo che sia molto più probabile il fatto che quella fosse un prototipo di serie S o magari anche un vecchio prototipo di questo cloud ma che adesso la direzione sia diversa loro stessi di fatto dopo aver testimoniato la volontà di lanciare un prodotto solo basato sul cloud avevano detto che i lavori erano ripartiti da zero dopo una prima fase di prototipazione io proprio per la ragione che dici tu me la vedo molto più vicina un oggetto insomma del genere al Chromecast a un dongle che sparisce dietro la tv piuttosto che a un altro oggetto incorporeo diciamo quasi esatto anche perché se tu lanci un oggetto di quella forma di fatto stai proponendo una nuova console che poi console non è perché non fa girare niente e rischi davvero anche di confondere il pubblico di creare ulteriore frammentazione mentre un oggettino che si è un controller è una chiavetta esatto che quasi è una presenza nel salotto secondo me si sposa molto meglio con l'idea di gaming di cloud gaming che loro vogliono portare avanti di assenza di fisicità del mezzo e poi secondo me c'è anche un'altra considerazione da fare visto che comunque lanciare un prodotto basato sul cloud l'abbiamo visto proprio con Stadia è rischioso secondo me lanciare un dongle e poi fallire fra virgolette non crea nessuno smacco diciamo aziendale dal punto di vista anche dell'immagine se invece lanci fisicamente una console un oggetto che è assimile a una console e poi va male al botteghino diciamo così secondo me per come è polarizzata oggi la chiacchiera videoludica rischi un pochino un boomerang comunicativo sì da una parte è più un servizio e basta con un oggettino che ti permette di accederci dall'altra è proprio un oggetto retaggio di un'idea di console che non è il passato è comunque ancora il presente che ti espone in modo diverso capisco quello che vuoi dire e ci sta la conclusione è vedremo quello che succederà si vocifera anche addirittura di un possibile price point di 100 dollari con il controller però veramente sono tutte speculazioni che valgono zero in questo momento a prescindere secondo me deve rimanere il fatto che Spencer ha voluto che si chiacchierasse di questa roba comunque già quello è un minimo significativo grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong torniamo se il mercato ce lo permette domani a raccontarvi l'attualità del mondo dei videogame e vi invitiamo come sempre a venirci a trovare su Twitch dove streamiamo tutti i giorni dalle 10 alle 12 di